Buongiorno FTA Online, parte al rialzo questa mattina la borsa, il Fuzzimib guadagna al momento 0,9% circa, siamo arrivati con i massimi intraday di area 23,497 a ridosso del lato alto di questo canale decrescente che parte dal massimo del 12 novembre. L'area di resistenza è importante, in caso di superamento di area 23,5 questo canale si dimostrerebbe infatti una pausa correttiva di tutto il rialzo che era partito dai minimi di inizio ottobre e ci sarebbero buone prospettive al superamento di area 23,5 di tornare per lo meno a vedere i massimi di periodo intorno ai 23.840 punti, fino a che questo livello invece non verrà superato c'è il rischio di un ritorno verso area 23,100 e poi eventualmente se anche quel supporto dovesse accedere di una flessione più importante, in questo momento siamo comunque molto più vicini alla resistenza, quindi occhi puntati su questi livelli perché al superamento di area 23,5 ci sarebbero indicazioni positive per la borsa in generale. Tanti titoli che fanno bene questa mattina, ne abbiamo scelte alcuni anche perché in parte li avete chiesti voi, iniziamo con Prismian che è quello del Futsimib con il rialzo maggiore, siamo a 20,75 Euro, nella seduta di venerdì c'era stato un tentativo di rialzo che però era in parte abortito, vedete era stato toccato un massimo a 20,33 Euro, la chiusura poi a 19,82 Euro, questa mattina siamo anche a di sopra di quei livelli, intorno a 20,75 Euro, 20,76 Euro, il livello da abbattere è quello dei 20,78 Euro, dove abbiamo il 61,8% di retracement del ribasso dal massimo del 7 di novembre, oltre area 20,80, vi verrebbe probabile il ritorno anche in area 22 Euro, vedete che il titolo in un'ottica temporale più ampia sta correggendo il ribasso che c'era stato dal massimo di fine 2017, con i massimi di novembre siamo arrivati esattamente sul 50% retracement di quel ribasso, quindi questo cosa vuol dire? Che il rimbalzo che è partito da questo doppio minimo che si è disegnato tra aprile e giugno, ha avuto sicuramente un'evoluzione importante, ma che per il momento non è bastata ad invertire la rotta rispetto alla precedente tendenza ribassista, quindi sarà necessario il superamento di area 22, per confermare l'ipotesi che questo rialzo sia destinato a durare nel tempo e a continuare la superazione di rifracciamento della precedente discesa, fino a che area 22 non sarà alle spalle bisognerà essere molto prudenti perché tutto questo movimento di rialzo potrebbe anche confermarsi solo una pausa correttiva e in quel caso quindi ci sarebbe il rischio di una nuova evoluzione verso il basso, magari potremmo tornare a testare in alte 22 Euro, ma successivamente resterebbe aperto il rischio di una nuova fase calante, quindi di breve siamo sicuramente positivi, soprattutto se i prezzi riusciranno a superare oggi area 20,80 con un target intorno ai 22 Euro, ma attenzione perché fino a che non ci sarà una chiusura di seduta sopra questa resistenza, il quadro di medio resta fragile. Veniamo adesso a Ferrari che sta lottando da alcune sedute con questa importante resistenza che sono i massimi di luglio in area 152-55, c'è stato un tentativo all'inizio mese di superare l'ostacolo, ma vedete il tentativo di durato lo spazio di una seduta, quella del 4 novembre, già nella giornata successiva il 5 c'era stato un superamento intraday, ma la chiusura si era posizionata ben al di sotto di quei livelli, oggi però ci stiamo riprovando, una chiusura di seduta sopra 151,60 dove siamo esattamente adesso, porterebbe i prezzi oltre il massimo del 15 novembre, poi come abbiamo detto la resistenza importante invece è quella di 152,60, siamo sui massimi storici, quindi è difficile dire che cosa potrebbe accadere in caso di rottura di quei livelli, certo che se dovessimo effettivamente vedere il superamento anche di area 152,60, potremmo iniziare a ipotizzare che questa fase di pausa sia un trampolino dal quale fare partire un nuovo movimento di rialzo che potrebbe a quel punto arrivare anche fino in area 170-173 Euro, quindi ancora forse non è il momento di sbilanciarsi al rialzo, ma basterebbe veramente uno sforzo ridotto per confermare l'intonazione positiva che abbiamo visto dai minimi di ottobre e permettere al titolo di puntare anche al di sopra di area 170 Euro. Guardiamo adesso invece Reno De Medici che già venerdì aveva messo a segno un rialzo molto interessante che sta continuando oggi, questa mattina siamo a 0,88 circa, il massimo del 12 novembre a 0,88,60, quindi ovviamente quella è la resistenza da superare per confermare l'intonazione positiva che abbiamo visto a partire dai minimi di ottobre settimana scorsa, che cosa potrebbe succedere adesso al titolo? Vedete siamo in correzione rispetto al ribasso che c'è stato dai massimi di agosto dello scorso anno, per il momento rispetto a quella fase ribassista è stato ritracciato circa il 50%, vedete l'unica seduta che è andata oltre la resistenza del 50%, che è a 0,86 e 50, è stata quella del 13 novembre, l'unica che l'ha superata in chiusura, ma quella giornata alla fine è stata archiviata come un impiccato, un hanging man, la classica candela, che può segnalare la fine di un movimento di rialzo, infatti così è stato, violazione del hanging man, avvio di una fase ribassista, poi comparsa la candela che è uguale rispetto a quella del 13 novembre, il 21 novembre, ma in questo caso posizionata al termine di un ribasso, da questo martello è partito il bel rialzo che abbiamo visto venerdì, questa mattina come dicevamo siamo ancora indirizzati nella stessa direzione, se dovessimo vedere una chiusura di sopra di 0,87, ci sarebbe una interessante conferma positiva e in quel caso avremmo la possibilità di avere i prezzi che puntano al target tra 0,93 e 50 circa, quindi importante la chiusura di oggi, sopra 0,87, 0,87 già dove siamo adesso andrebbe benissimo, 0,87 e 90, avremmo una conferma positiva, attenzione però perché come abbiamo detto già un paio di settimane fa i prezzi hanno tentato a rotturare l'esistenza, ma poi ne erano stati respinti, quindi oggi seduta sicuramente critica. Guardiamo adesso Ferrovia Nord Milano che invece venerdì ha inviato un bel segnale superando questa forte esistenza dell'area 0,60 e 80 che era il massimo del 30 di ottobre, il titolo sta capitalizzando sulla fase laterale che c'è stata negli ultimi mesi, attenzione perché la fase laterale non è un doppio minimo, ma è un canale leggermente da una moderata inclinazione positiva, quindi sarà importante che i prezzi riescano a superare a rialzo in chiusura di seduta il lato alto di questo canale, vedete esattamente dove si sono affermate le quotazioni nella giornata di venerdì, in questo momento il lato alto del canale passa a 0,61 e 50, quindi la chiusura ai prezzi attuali 0,62 già sarebbe sufficiente per decretare il superamento del lato alto di questa fascia, in caso di rottura di area 0,61 e 50, il target verrebbe fornito dalla proiezione dell'ampiezza del canale dal punto di rottura, quindi obiettivi fino almeno 0,73 Euro circa, anche in questo caso quindi siamo sulla resistenza molto importante, sarà importante pertanto vedere che cosa succederà oggi in chiusura di seduta per confermare o meno l'intonazione positiva che abbiamo visto nelle ultime giornate, guardiamo invece infine il Bitcoin, il Bitcoin in dollari del quale mi avete chiesto un'analisi, nella seduta di venerdì c'è stata prima l'accelerazione ribassista, poi una discreta reazione dai minimi e i volumi su questa reazione sono stati molto elevati, quindi il mercato che probabilmente ritiene aver raggiunto dei livelli, un punto di appoggio importante per questa fase di ribasso, è plausibile immaginare che ci sia adesso un tentativo di rimbalzo, vedete eravamo scesi anche sotto il 61,8% di retracement del rialzo dai minimi di dicembre, un supporto che però ha tenuto molto bene in chiusura di seduta, vedremo adesso se quest'area 7.235 anche oggi si dimostrerà un valido supporto, in quel caso anche se andiamo a guardare la situazione degli indicatori tecnici come RSI A14 sedute, vedete in quel caso siamo scesi con gli indicatori in ipervenduto, un rimbalzo è del tutto plausibile, come sempre attenzione a non scambiare un rimbalzo legato alla situazione di ipervenduto con una potenziale inversione di tendenza, però diciamo che nulla vieta che dai prezzi attuali si possa ritornare anche in area 9 mila, pur sempre in un'ottica di correzione, se poi dovessero salire oltre questa trendline che è a 9 mila e 200 dollari circa, in quel caso allora si potrebbe parlare veramente di un tentativo di ripresa più duraturo, comunque di breve sembra esserci lo spazio per avviare posizioni di acquisto. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto dandovi appuntamento domani con il nostro consueto commento giornaliero.